Salve amici, sono Rita. Il corso che ho frequentato in questi due giorni con Patrizia Sette Educati è un corso meraviglioso perché è un corso che ti fa stare nel qui ed ora, ti fa ascoltare e sentire chi sei veramente. Lo consiglierei a tutti, giovani e meno giovani, soprattutto ai giovani perché così si troveranno subito avanti un passo rispetto a me, per esempio, che ci sono arrivata un po' dopo. È un corso molto veloce, molto efficace che vi dà la possibilità di realizzare e sbloccare delle cose che voi avete nascoste nel vostro profondo e potete veramente liberarvene in maniera veloce e precisa. Durante questi due giorni il lavoro è stato molto profondo, molto interessante e anche se apparentemente non sembra di avere delle particolarità, delle problematiche di un certo livello, lavorando con Patrizia si arriva molto molto in profondità e gli sblocchi che si hanno sono a più livelli e quindi è veramente molto importante provarci. Patrizia carissima, ti ringrazio per esserci e per aver coniato questo metodo meraviglioso Divine Connection. Grazie a te e alle divine connessioni che abbiamo creato.